Buonasera, ben trovati al salotto acquatico di Swing Beats parte 2 con la debuttante La debuttante dorsista Senti, Barcellona dieci anni dopo Dieci anni dopo? Bene, nel senso che per me è un compleanno molto importante insomma dieci anni di carriera, è successo di tutto e di più tantissimi grandi risultati, ovviamente qualche delusione ma quella c'è sempre però sono stati dieci anni di rock'n'roll, sono contenta di come sono passati qui c'è una cartina, ho segnato i punti dello shopping più estremo di Barcellona purtroppo io finisco l'ultimo giorno quindi vabbè me la lascio ti lascio la cartina perché lì hai segnato ripetiamo nell'ordine, occhiali di tutti i colori, di tutte le fogge ok, no vabbè quelli sono i primi ah si, ma qua ho visto delle cose qua a Barcellona ragazzi c'è tacchi, roba a 20 centimetri oh c'è una cosa, scusami no vabbè non è tanto l'altezza è proprio a me piacciono i modelli, i colori anche tu hai un locale no? mi ricordi bene? si si si, la mia famiglia, Tacco 11 papà fa il bar lì? si si, tutta la famiglia mamma, papà, fratello lavorano tutti lì senti, ma però non ho chiuso il bar vorrei venire qui e arriveranno il 2 anche perchè c'è la truppa che segue hanno paura di vederti a me? no, che centro io? no, 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 scherzo, scherzo arriveranno il 2 per il due d'orso senti, ho visto Asterix prima ma guardavo un po' torno si, ma si ricorda di te si, è certo che si ricorda mi dicono faccio il bravo, sei tranquillo tutto bello sereno senti, io volevo regalarti un paio di occhiali no, grazie ti va? questi qua, insomma, sono sono chiari simpatici anche perchè colorati che meraviglia che sei sei veramente sei veramente grazie bella, 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 bella bella rilassata mi raccomando il 200 d'orso vabbè, io spero di mantenere questa rilassatezza anche nei prossimi giorni il 28 iniziamo subito si rompe il ghiaccio con una staffetta veloce insomma, che per me è sempre divertente fare e poi ci avviciniamo e poi Barcellona vacanza? no, no Barcellona no rientro subito anche perchè poi il 5 sarà il mio 25esimo compleanno 25 è un'età 25 è un'età quindi farò vabbè, è un'età è un'età tonda diciamo un quarto di secolo dai, festeggio un quarto di secolo vuoi fare la vecchiona amore, pellegrini vuoi fare la vecchiona e rientro a Verona dove la sera a Verona festeggerò un po' con qualche amico lì i giornalisti non sono ammessi ve lo dico subito no, vabbè ma tanto non sapete neanche dove beh, lo so ma tanto neanche però Verona è piccolina quindi appunto no, e poi il 7 partirò con i miei familiari e facciamo qualche giorno in Sardegna tutti insieme senti una cosa bella augurante voglio fare posso darti un bel bacione sulla guancia? portafortuna portafortuna grazie alla prossima con Swimbeads ciao